Nato come evento Facebook, si è concretizzato in realtà. Il gruppo speleologico Grotte e Forre, Francesco De Marchi, ha realizzato il suo igloo davanti alla sede del CAI, nel piazzale antistante il centro commerciale La Meridiana. Una costruzione caratteristica ed originale, con una capienza di cinque posti a sedere, come riportano i creatori. La costruzione la facciamo ogni anno tra amici. Quest'anno abbiamo voluto festeggiare questa nevicata straordinaria facendola qui a bassa quota, perché la neve ha permesso di farla qui all'Aquila. La foto è circolata molto sul web. Abbiamo letto anche che avete in mente di servire bibite calde, cose simili. Cosa effettivamente è vero e cosa no? Il fatto delle bibite calde era una battuta che girava sul web. Ci siamo ritrovati travolti da questo effetto collaterale dei social network. Ci fa piacere perché evidentemente qui all'Aquila funziona. ci sta una comunità che è sensibile a queste cose. Il gruppo Grottefor dell'Aquila appunto fa parte del CAI dell'Aquila, che ha la sua sede presso il piazzale della Meridiana. Il CAI appunto, oltre a fare dell'attività ludica, come può essere quella dell'Iglù, oppure attività di avvicinamento alla montagna o alla speleologia, quale può essere appunto l'escursionismo o la speleologia stessa, fa anche attività di sostegno alla popolazione. Prossimamente siamo in procinto di attivare un nuovo corso che facciamo ogni anno, questo corso di introduzione alla speleologia. Quindi chiunque volesse avvicinarsi al fantastico mondo delle grotte, perché fantastico è proprio da fiabba il mondo delle grotte. Non è conosciuto e i giovani dovrebbero avvicinarsi di più per conoscere anche quello che è nel cuore della nostra madre terra. Grazie. 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 Grazie.